Allora, io vorrei, prima di affrontare il titolo che è stato lo stesso Armando ad assegnarmi con Atus essendi, l'impulso irresistibile e incontrollabile ad essere, il voler essere, il voler esserci. Ecco, prima di affrontare questo magma, perché questa è la fucina, il magma, il calderone da cui viene tutto quello che viene dal fenomeno umano, quindi tutte le cose belle e tutte le cose ignobili che noi umani produciamo dentro di noi e fuori di noi. Perché veramente è sconvolgente, non so se capita anche a voi, ma è sconvolgente porsi la domanda, ma chi siamo veramente? A me capita di provare un senso di sconforto a volte, di abbattimento, guardando la stupidità che avvolge ogni cosa, la superficialità, insomma tutte queste cose qui e viceversa, a volte sento salire un fremito che sento che arriva a toccarmi la pelle e la pelle sale, un fremito di commozione, di ammirazione rispetto al fenomeno umano. Mi è capitato l'ultima volta ieri, ieri ero a Roma, invitato dall'Associazione Nazionale Magistrati per parlare nel palazzo della Cassazione, nell'aula magna del palazzo della Cassazione, alla presenza del ministro e di tutta una serie di presidenti, per parlare e onorare la memoria di Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. Ricordo ieri, quando passano le immagini, perché oltre all'intervento del ministro, dei presidenti vari, il mio alla fine, eccetera, c'erano anche delle immagini, ricordo l'immagine del funerale di Livatino e la telecamera che si sofferma sul volto di Giovanni Falcone, lì presente e che due anni dopo avrebbe fatto, in circostanze diverse, la stessa fine. E io ho sentito questo senso di commozione, di emozione profonda di fronte a due grandi uomini e allora uno pensa a coloro che li hanno uccisi nella maniera più vigliaca, proprio vigliaca possibile e pensa a queste persone, a loro, che sapevano che sarebbero morti, che sapevano i pericoli a cui andavano incontro, le minacce erano arrivate, Livatino non aveva la scorta ma gliela volevano dare la scorta e non l'aveva e io ieri ho chiesto a uno dei magistrati, non uno dei magistrati, a colui che condusse le inchieste e che giunse poi a, come si dice, incarcerare tutti i colpevoli. Dico ma è vero quello che si sente dire che Livatino esplicitamente aveva rifiutato la scorta e lui disse non c'è nessuna testimonianza esplicita, non c'è nessun documento, però è la cosa più probabile perché tutti l'avevano, è la cosa più probabile che è quello che quindi si sente raccontare di lui che disse se quelli mi vogliono uccidere comunque mi uccideranno e oltre a perdere la vita io perderanno la vita altri quattro padri di famiglia e quindi appunto se questo stai io dico di no alla scorta. Ecco questa versione che non ha una testimonianza esplicita è la più plausibile, è vera alla fine, risulta vera. Quindi che cosa siamo? Cosa possiamo essere? Un boia? Certo possiamo essere un boia ma ancora sotto il boia perché il boia perlomeno faceva il suo lavoro legalmente riconosciuto, istituito nella società, peggio. Oppure possiamo essere un eroe? Se non vi piace il termine eroe trovate ne altri. Santi, l'hanno anche beatificato. Potremmo dire un beato anche se a me il termine beato non piace mi sa di così non so voi se piace o no ma no e tutto parte dal conatus essendi tutto parte da questa fucina da questa energia libera irrequieta che costituisce il nostro esserci e anche quello che siete voi anche quello che siete voi nel vostro essere creatori, creatrici di bellezza o di bruttezza di parole gentili o di parole sgarbate cattive, offensive oppure accoglienti di sguardi retti o di sguardi torvi torvi come invidia invideo, guardare contro l'invidia invideo, guardare contro tutto questo dipende da come disponiamo questa faccio così tocco il petto potrei mettere le mani anche sotto fino a qua tutta questa dove si muove questa energia libera che possiamo chiamare come la chiamate? inconscio sé ego psiche es anima ecco i diversi tipi di anima dall'anima irrazionale che è come il cavallo nero della biga del fedro è l'anima razionale quindi se la chiami anima poi devi differenziare perché ci sono diversi tipi di disposizione di questa energia c'è quella bianca c'è quella nera tutto parte da qua e siccome siamo a Torino e va bene Torino ma siamo a Torino spiritualità e la spiritualità è questa se non è questo la spiritualità è una presa scusate per me non realizza il suo compito la spiritualità è vedere lo spirito che si agita nell'uomo lo spirito ambiguo che si agita nell'uomo perché spirito è Dio e spirito è Lucifero angelo decaduto quindi pura sostanza spirituale voi potete credere a Dio o no e potete credere al diavolo o no ma se siete qua immagino che crediate nella dimensione spirituale dell'essere umano che cos'è la dimensione spirituale dell'essere umano è la possibilità di libertà cioè di indeterminazione cioè l'ambiguità e la spiritualità è la suscitazione l'educazione l'educazione il nutrimento di questa energia libera indeterminata che si può qualificare in modo tale da formare persone come Rosario Olivatino oppure altre come i suoi killer tutto dipende dall'educazione forse forse no forse proprio non tutto forse c'è anche una vocazione forse però però io non credo alla predeterminazione al male cioè certo devi avere un certo carisma iniziale un certo dono un certo talento è chiaro che sì per giungere alle vette questo vale per la musica questo vale per la letteratura questo vale per qualunque cosa e quindi vale anche per la vita morale però non credo che ci sia una determinazione all'immoralità alla criminalità non ci credo non ci credeva neanche Rosario Olivatino ieri ho sentito una cosa che lui lo diceva tra l'altro un magistrato donna dicendo io questa cosa non l'ho mai fatta e penso che non la farò mai e proprio per questo mi sorprende che cosa di cosa sto parlando il fatto che Rosario Olivatino prima dell'udienza andava dagli imputati e guardandoli negli occhi dava loro la mano come voler suscitare l'umano nell'uomo avrebbe detto Vassili Grossman l'umano nell'uomo hai commesso un reato ma tu in quanto sei il re o non sei il reato la grande distinzione hai commesso qualcosa di criminale ma tu non sei o puoi non essere un criminale il tuo passato il tuo delitto non ti inchioda puoi cambiare puoi mutare suscitazione della libertà ecco la spiritualità quella vera che non è il rifugiarsi chissà dove per non sentire più il grido l'angoscia della storia a volte sì anche questo in certi momenti ma per poi tornare almeno questa è la spiritualità che amo io per poi tornare nella storia a spendersi è come sistole e diastole aprirsi e chiudersi devi andare nel deserto raccoglierti per poi tornare a dare frutto a volte persino a marcire nel campo come sta scritto nel Vangelo del seme di grano quindi nel parlare del desiderio e di quel desiderio anonimo anonimo che si chiama conatus essendi l'impulso ad esistere perché poi ci sono desideri anonimi sono quelli che voi concepite voi stessi così ma questo no questo fa parte del kit iniziale con cui veniamo al mondo ecco io appunto delineo che il mio punto di vista è il punto di vista della coscienza morale io mi pongo di fronte a questo magma di fronte a questo desiderio anonimo primordiale e così via dal punto di vista della coscienza morale che cos'è la coscienza morale adesso mi tolgo la giacca e lo è spesso la coscienza è un centro di elaborazione di informazione da questo punto di vista non c'è nulla che vive che non abbia coscienza perché vivere significa nutrirsi e riprodursi cercando possibilmente di non diventare il nutrimento di altri e per fare questo in natura occorre trovare il cibo e diciamo il partner che non sono lì a portata di mano e per trovare sia il cibo sia la possibilità di riprodursi occorre elaborare informazioni e tutto ciò che vive a suo modo elabora informazione quindi la coscienza anzitutto è elaborazione di informazioni al fine di produrre atti cognitivi e cognizione chiaro? primo livello della coscienza cognizione poi c'è un secondo momento un secondo prodotto che emerge da questo centro di energia libera e cognitiva e capace di cognizione che esiste dentro di noi uno dei fenomeni più sbalorditivi dell'universo ah gli astrofisici ci fanno sbalordire quando dicono ma voi prendete un cucchiaino bene prendete un cucchiaino quello che usiamo per il caffè e pensate che quello zucchero che avete lì che mettete nella tazzina corrisponde al peso della città di Torino tutto il peso della città e poi pensate e poi pensate che quello zucchero lì ha una tale densità che racchiude il peso del pianeta Terra e già uno non riesce più a pensarlo ma poi ti dicono che addirittura in quella proporzione in quel piccolo pezzo dello zucchero sul cucchiaino ci sta non il pianeta Terra ma tutto il sistema solare anzi decine di soli per dire la densità della materia quando si parla dei buchi neri i buchi neri stellari oppure i buchi neri massicci gli ammassi massicci e noi rimaniamo sbalorditi almeno io ma penso tutti voi di fronte a cose secondo me il fenomeno della mente che è capace di elaborare informazioni è ancora più sbalorditivo da un punto di vista proprio della qualità della materia che è in gioco della qualità dell'energia della materia che è in gioco quello è più pesante va bene mi sbalordisco dico ma guarda quanto pesa va bene ma ci dovremmo sbalordire ogni giorno di fronte a noi stessi pensando alla nostra capacità di elaborare informazioni e di produrre l'inno alla gioia per fare un esempio tra i tantissimi quindi la coscienza è la capacità di elaborare informazioni il secondo livello la coscienza è la capacità di il secondo livello è la capacità di autoconsapevolezza quando io giungo a dire io io sono io esisto io consisto o anche io non sono perché noi ci capiamo anche ex negativo prendendo le distanze non è che si capiamo sempre quello che siamo a volte per capire la nostra tesi dobbiamo convocare le antitesi tutto voglio essere tranne che quella cosa lì tranne che uno ecco allora se capisco il mio avverso avversario forse capisco il mio verso se di per sé non lo conosco non mi è chiaro però lo posso chiarificare capendo quello che è distinto io proprio no e questo è il secondo livello la consapevolezza con tutte le sue varie sfaccettature poi c'è il terzo livello che prescinde dal momento che può prescindere dalla soggettività e raggiunge l'universalità di ciò che è giusto o sbagliato o ingiusto iniquo di ciò che è bello bello l'universo qualcosa che è bello è qualcosa che invece tradisce la legge della bellezza e questa è la coscienza morale e questo noi lo possiamo fare possiamo salire sopra il nostro interesse strettamente biologico il nostro conatus essendi e diventare conatus giustizie e qualcuno di noi e non pochi pensate a coloro che hanno dato la vita per la libertà che ci fa oggi poter dire io penso io non penso poter prendere posizione poter le libertà di cui godiamo nessuno ce le ha regalate nessuno regala niente nella storia è tutta una lotta una dura lotta e questa è la coscienza morale io mi pongo dal punto di vista della coscienza morale nel parlare a voi alla vostra coscienza morale di ciò che rappresenta il fenomeno del desiderio del desiderio anonimo anzitutto abissale che riguarda proprio le nostre fondamenta di viventi di esseri viventi e che ci accomuna anche alle mosche anche alle formiche le quali pure vogliono vivere se voi prendete una mosca e tentate di fa di tutto per a proposito appunto di raccogliere informazioni provate a prendere una mosca e fare così capita l'informazione elabora l'atto cognitivo della minaccia con la mano e se ne va con Atus e Sandy anche lei nel suo piccolo si diceva un tempo c'erano le formiche che nel loro piccolo va bene allora come siamo messi di fronte al desiderio e a questo desiderio ripeto anonimo che non è desiderio di cose una due cose neanche ma è anzitutto un desiderio di essere di consistere volontà di potenza si potrebbe dire quando quando Nietzsche diceva Wille zur Macht intendeva dire è proprio la volontà di esserci e di esserci in maniera efficace noi intendiamo la volontà di potenza solo come qualche cosa di prepotenza volontà di potenza come prepotenza a volte è così forse più delle volte ma la Wille zur Macht non è necessariamente la volontà di prepotenza è la volontà di stare bene di fare bene di vincere di vincere ma vincere non perché è uno prepotente ma perché se sta giocando a ping pong è evidente che vuoi vincere se no non giochi neanche dico ping pong per dire qualunque altra cosa che fate nel lavoro quando vi mettete a cucinare per chi di voi cucina uno prepara un dolce l'altro prepara eh ci deve essere questa volontà di potenza cioè di fare bene quello che stai facendo con precisione preparato senza senza improvvisare nel senso negativo del termine a volte ci può essere un'improvvisazione ma se hai la preparazione allora improvvisi ma se no è è un'altra cosa se no è sciatteria allora come ci si dispone in fronte a questo vedete noi noi abbiamo eh almeno ragionando su questo per preparare l'incontro parlare con voi io ho pensato che eh gli antichi rispetto a noi moderni o postmoderni la pensavano molto diversamente rispetto al desiderio noi come viviamo beh viviamo in un'epoca nella quale il desiderio è altamente osannato un po' da tutti e parlare male del desiderio sembra essere qualche cosa di 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 antiquato di antiumano di repressivo noi siamo desiderio e parlare male del desiderio significa parlare male della nostra essenza al contrario dobbiamo rinfocolare il desiderio e tutti parlano bene del desiderio anche coloro che in prima battuta appartengono a tradizioni spirituali e istituzioni che parlavano male del desiderio oggi ne parlano bene e voi vedete sacerdoti vescovi così via che che appartenevano appunto a una tradizione che rispetto al desiderio aveva un atteggiamento negativo e vedete che invece cantano le lodi del desiderio io ormai ho raggiunto una certa età come si dice e ricordo bene ancora quando studiavo in seminario a Milano io dopo il liceo classico statale sono entrato in seminario ho fatto i cinque anni per il baccellierato poi vabbè ho avuto altre mie storie poi ok e ricordo che vigeva la massima latina per capire cosa un seminarista avrebbe dovuto fare dell'agia contra cioè agisci contro il tuo desiderio per fare in modo che tu sia una persona padrone di te stessa anche dei tuoi desideri per il fatto che tu non sia in balia dei tuoi desideri per il fatto che tu sia appunto una persona matura cosa bisogna fare bene vediamo un po' a te cosa piace ti piace stare all'aria aperta coltivare le piante c'era l'orto in seminario ti piace fare questo bene biblioteca a te invece piacciono i libri piace stare così raccolto bene tu invece vai nell'orto lì lavori esterni perché è così che si prova si tempra perché se sia seconda sempre il tuo desiderio la tua natura beh alla fine sei una pappamolla perché la vita non ti asseconderà sempre a volte devi avere rigidità forza se sei abituato a vincere sempre quando trovi una porta che non riesci ad aprire starei lì non avrai la forza per aprirla in qualche maniera per importi soprattutto se si tratta di una porta dentro di te sei fuori di te è facile ma sei dentro di te quindi noi abbiamo una tradizione ma è una tradizione greca cristiana buddista immagino voi conosciate la famosa battuta di Socrate riportata nella vita di Diogene Laerzio la famosa battuta di Socrate che cammina per il mercato di Atene vede l'esposizione di tante merci così come si fa nei mercati lui guarda è tutto felice dice a se stesso di quante cose che non ho bisogno il saggio detesta lo shopping lo stolto che ama lo shopping e desidera sempre cose 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 riempirsi appena ne hai una subito ne vuole un'altra sempre più volere il saggio è parsimonioso il suo bagaglio è molto semplice quando si dice che bisogna partire a preparare la valigia non ci mette niente se deve traslocare quando Spinoza doveva cambiare casa i suoi traslochi erano abbastanza frequenti avvenivano nel giro di un pomeriggio la cosa più difficile era portare il letto perché era il letto dei suoi genitori che aveva ereditato lui è un po' pesante l'aveva preso lui è una cosa poi quattro attrezzi per fare gli strumenti di ottica vestiti assolutamente l'essenziale libri che pure era Spinoza quelli giusti quando morì vennero contati circa 181 libri se hai 181 libri che sono i classici quelli giusti quelli veri quelli profondi e li legge e li rileggi e così via bastano e avanzano perché rileggere è sempre molto più importante che non leggere se trovate il libro giusto lo leggete lo rileggete ci tornate è il libro vero è quel libro che continua a trasmettere energia ci sono libri che li hai letti una volta hanno è come il limone l'hai spremuto non puoi farne più niente tutta la tua la loro energia ci sono libri che torni continuamente su questi libri e ogni riga hanno una sfumatura diversa perché sono densi proprio come se fosse quella materia che sta sul cucchiaino sono densi Socrate diceva questo Epiteto dice devi estinguere del tutto il desiderio Epiteto quindi siamo passati allo stoicismo se voi leggete tutti gli stoici trovate questo senso della parsimonia del restringere il desiderio la scuola rivale dello stoicismo qual è? sapete bene l'epicureismo e uno pensa no invece gli epicurei proliferavano tanti piaceri non è vero edonè edonismo c'è una lettera di Epicuro viene riportata nella vita di Epicuro sempre in Diogeno e nella Erzio Diogeno e nella Erzio era innamorato di Epicuro perché se voi leggete le vite dei filosofi di Diogeno e nella Erzio vedete che il filosofo che ha ricevuto maggiore attenzione è proprio Epicuro ebbene Epicuro si nutriva esclusivamente di pane e acqua salvo una volta scrive a un amico mandami una ciotolina di formaggio conservato in modo che possa scialarmela quando mi viene voglia questo Epicuro origine arrivò a evirarsi a 18 anni proprio per evitare di diventare preda di questo conatus conatus coeundi in questo caso non essendi ma e nessuno lo biasimò non è che era cioè si castrò si evirò e continuò a fare tranquillamente ad Alessandria al teologo a insegnare catechesi non è che è lo scandalo anzi se voi leggete Massimo il confessore sto parlando di pezzi da 90 non è che sto prendendo e dice vabbè sono persone come dire che non hanno che no sto prendendo i massimi Socrate Pitteto Epicuro Origene forse il più grande insieme ad Agostino teologo anzi senza forse della chiesa antica Massimo il confessore lo stesso grandissimo teologo della chiesa orientale diceva auspicava una estraneazione volontaria alla carne grazie alla completa circoncisione dei suoi moti naturali la regola di San Benedetto quanto poi alla volontà propria sappiamo che ci è vietato compierla infatti la scrittura dice non seguire i tuoi desideri regola di San Benedetto la base di tutta la spiritualità monastica dell'occidente ignazio ignazio di loiola fondatore di gesuiti la pratica che che insegnava i suoi discepoli era l'indifferenzia in latino indifferenza in italiano è necessario renderci indifferenti rispetto a tutte le cose create in modo che da parte nostra non vogliamo più salute che malattia ricchezza che povertà onore che disonore vita lunga che breve qualunque cosa arriva va bene così io non conto nulla io conto nella misura in cui mi collego a qualcosa di più grande di me nella misura in cui obbedisco potenzia obbedienzialis questo sono potenzia obbedienzialis se faccio se faccio questo mi compio non in maniera capricciosa io 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 ma in maniera matura vera questo è il senso della sacra dell'indifferenza di Ignazio di Loyola quando il Buddha arrivò all'illuminazione dice il Dhammapada pronunciò alcune parole che vengono chiamate come canto di vittoria del Buddha aveva lavorato tanto per poter giungere lì ma finalmente c'era arrivato e e e dice quindi queste parole a celebrare la meta raggiunta per vite innumerevoli ho vagato cercando in vano il costruttore della casa della mia sofferenza ma ora ti ho trovato costruttore di nulla da oggi in poi le tue assi sono state rimosse spezzata la trave di colmo il desiderio è tutto spento il mio cuore unito all'increato questa è la tradizione maggioritaria nella nell'antichità e non sto parlando di lo capisco che bisognerebbe approfondire tutto capisco tutto però sono convinto che questa sia l'espressione come dire principale e se voi ci pensate la cosa si spiega da sé è una questione di baricentro è una questione di baricentro tutto attaccato non baricentro bariperiferia no baricentro se tu sei preda di un desiderio il tuo baricentro è fuori di te vi ricordate quando vi siete innamorati se invece il desiderio si controlla ma si controlla in modo tale da estinguerlo da renderlo funzionale all'esserci qui e ora al volere quello che c'è ecco che il baricentro diventa interiore e quindi si è si è unificati questo è il senso della tradizione antica grosso modo è tutto sbagliato? sì o no ci sono molte cose sbagliate in questa in questa prospettiva che portano a cosa portano alla mortificazione dell'io del soggetto della libertà della creatività la conformazione a ciò che è a ciò che è nel senso di ciò che è stato la glorificazione dello status quo il rischio è questo ma questo è il rischio ma c'è anche qualcosa di buono da prendere e da non dimenticare così come nella nostra glorificazione del desiderio di cui questo festival è una epifania desideranti chi di noi non è desiderante? io lo sono e tutti noi lo siamo e vogliamo forse fare a meno di questo? no non ne vogliamo fare a meno vogliamo capirlo vogliamo orientarlo non vogliamo spegnerlo vogliamo orientarlo vogliamo far sì che ecco però in questa in questa glorificazione dei desideri in questa beatificazione canonizzazione del desiderio e del desiderare dell'epoca contemporanea c'è pure un rischio pure qui così come c'era nell'antichità dove c'era l'estremo opposto così oggi ai nostri giorni c'è un rischio qual è questo rischio l'ho già detto soggettivismo relativismo narcisismo il fatto che non c'è più il bene comune esiste solo il bene privato il fatto che non esiste più disciplina un conto è la conformazione che è sbagliata ma il conto è la disciplina quando si capisce che esiste appunto un bene comune una logica comune alla quale dopo aver discusso nella misura in cui stai all'interno diciamo così di un'istituzione o di un orientamento ti devi conformare anche se non sei d'accordo per il bene dell'istituzione per il bene del raccorpamento secondo me e invece questa proliferazione del desiderio questa indisciplina del conatus essendi fa sì che esistano dei soggetti che si reputano fine a se stessi non c'è più un bene più grande non c'è più un'idea più grande verso cui indirizzare il proprio desiderio il desiderio coincide con il proprio ego è tutto io uguale io tutto quello che faccio deve tornare a me perché il desiderio diventa l'assoluto il desiderio deve essere inteso secondo me come motore e non come meta Shakespeare muore nel 1616 qualche anno qualche anno prima scomponeva i suoi componimenti tra questi viene uno che pochi conoscono e leggono piacerebbe sapere chi di voi lo conosce e l'ha letto Troilo e Cressida c'è qualcuno che vedo poche mani alzate non è strano se io l'ho letto è perché leggendo un libro adesso non mi ricordo neanche quale penso sia Jonathan Sachs Moralità casa editrice Giuntina che all'interno di questo libro ho trovato questa citazione folgorante e allora mi sono comprato Troilo e Cressida con il testo a fronte perché ho da un sacco di tempo le cose le opere complete Sansoni ma lì non c'è il testo a fronte quindi quando voglio leggere qualcosa come si deve mi piace anche andare a vedere nei punti diciamo qual è il testo originale e adesso vi leggo tre righe scritte qualche anno prima ponete dieci anni prima 1606 che hanno una secondo me una attualità una profondità sono una radiografia dei nostri giorni i nostri giorni che sono l'apoteosi del desiderio società dei consumi no? società dei consumi società dei consumatori ma noi possiamo consumare se vogliamo consumare se vogliamo consumare dobbiamo avere voglia giusto? e da quando nasciamo si può dire noi andiamo in giro parliamo incontriamo accendiamo la tv prendiamo il treno qualunque cosa facciamo e vediamo una serie di suggestioni per alimentare noi queste voglie ci sono persone ci sono ragazzi ci sono bambini ci sono anziani che sono nient'altro che voglie voglie desideri voglie di cose o di cose o di poteri o di onori e non c'è niente di più importante di questa possibilità di consumare ma consumare sì avere la cosa ma proprio consumare sentite quella parola come viene e consumiamo e consumiamo e consumiamo e ci consumiamo sentite questo editoriale che se comparisse su queste tre righe sui giornali di oggi avrebbe un'attualità maggiore di tante pagine di tanti editoriali tutto avrà nome potere e il potere volontà e la volontà desiderio e il desiderio lupo universale assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere farà dell'intero universo la sua preda per poi alla fine divorare se stesso è il testo originale inglese il nome di questo desiderio il sostantivo è appetite Spinoza nell'etica adesso arrivo Spinoza non crediate di scamparla adesso arrivo Spinoza nell'etica distingue appetito da desiderio dice che il desiderio è l'appetito consapevole sai di che cosa che cosa desideri di cosa hai voglia che cosa vuoi questo è il desiderio mentre l'appetito è ancora prima è anonimo è il conatus essendi in un certo senso e noi dentro di noi c'è questo universal wolf questo lupo universale un lupo universale che vuole divorare tutto e divorando tutto alla fine finisce per divorare se stesso perché se noi divorando tutto stessimo bene uno dice beh va bene ok il punto è che questo eterno divorare tutto eterno volere più cose più cariche più successi più non ti porta ad essere infelice divori se stesso era molto più felice Picuro che stava con il suo pane e acqua e qualche volta tirava fuori scialava col formaggio di chi invece ha tavole dove c'è tutto era molto più felice Pitteto era molto più felice Socrate di quante cose che non ho bisogno quindi noi abbiamo a che fare con un'antinomia c'è un lupo universale dentro di me c'è un conatus essendi un impulso un impulso a esserci a vivere a godere ad avere piacere a volere potere ricchezza tutto questo il lupo universale è dentro di noi ed è inutile che ce lo nascondiamo io non credo al peccato originale è da anni che dico che il dogma è sbagliato ma è sbagliato il dogma in quanto pensa che le persone siano peccatrici peccatori che si nasce a causa di qualcuno tutto questo ma che ci sia un fondo dietro di verità una lettura antropologica per cui appunto abbiamo a che fare con un conatus anonimo che a volta porta a divorare qualunque cosa persino me stesso alla fine in un senso di autodistruzione autofagocitazione ecco questo ma questa è fenomenologia dell'esistenza è lettura io quindi non devo farmi divorare dal lupo e non devo ucciderlo il lupo non devo farmi divorare non devo ucciderlo se mi faccio divorare mi faccio divorare non sarà più niente sarò preda il lupo diventerò lupo anzitutto e poi ma non devo neanche non devo anche spegnere nemmeno devo spegnerlo perché se lo spengo se lo spengo viene meno proprio il senso del mio essere qui anche se ci pensate viene meno la mia capacità di costruire di immaginare di creare di fare di vivere di esistere di sorridere di essere mi deprimo io amo molto Simone Veil ma tanto però la sua interpretazione del desiderio è dello slancio vitale come qualcosa di negativo per cui bisogna alla fine giungere a riprodurre dentro di noi una spiritualità che è l'opposto del desiderio dello slancio vitale l'opposto dell'elan vital di cui parlava Bergson per giungere a quella disposizione di sé che Simone Veil chiamava la decreazione la decreazione la creazione è abitata da questo impulso ad essere dal conatus essendi io per essere pura pura devo compiere il movimento opposto decrearmi solo così sarò pura e infatti lei si decreò sono i racconti delle testimonianze di chi l'assisteva in primis il medico curante ad Ashford nel Kent che appunto dichiarano che Simone Veil alla fine si fece morire non mangiava non voleva mangiare quindi per uccidere il lupo universale ed essere non più così non essere più feroce come faccio a tenere vivo il lupo universale e a non essere feroce capite? è questa la domanda è questa è il punto non dobbiamo perdere niente non devo perdere la lezione del passato la lezione di Ignazio di Loyola la lezione di Socrate di tutti questi che ho detto non devo perdere neanche la lezione opposta la ribellione a questa maniera di pensare devo tenere insieme ma come faccio a tenere insieme? ed eccoci a Spinoza eccoci qua arriviamo io amo molto non sono spinozista spinoziano non ancora forse chi lo sa penso di no penso che non arriverò mai a essere da come mi conosco e comunque rimane una delle figure più luminose non solo della storia della filosofia ma della storia dell'umanità una di quelle persone che fa venire la pelle d'oca va bene? che la vedi e dici ma che bello per la sua rettitudine per la sua intelligenza per la sua integrità per la sua amabilità una persona amabile come ogni vero filosofo deve essere amabile lieto filosofus semper letus dice Raimondo Lullo la vera filosofia è come dice il termine come dice la parola amore per la sapienza ma si può essere si può avere amore per la sapienza se si è in qualche misura sapienti e si è sapienti se si ha un sapore sapio sapere se ha un sapore il sapore dell'umanità ci sono filosofi così e Spinoza è uno di questi proprio filosofo nel senso autentico di una persona spirituale capite? non di un dotto che sa le cose che sa quello che hanno pensato gli altri no no le sa anche le cose ma il punto non è sapere le cose il punto è avere sapore il punto ebbene Spinoza dice ogni cosa si sforza di perseverare nel suo essere con Atus essendi la parola io sono andato a vedermi l'etica l'ho letta straletta se vedete ho diverse edizioni è uno dei miei libri dei miei laboratori ci sono quei libri che uno legge rilegge elabora e così via e dico ma l'espressione con Atus essendi esiste perché no la risposta è no se voi cercate nel testo originario latino l'espressione con Atus essendi non la trovate però c'è l'espressione c'è naturalmente con Atus un'ottantina di di afferenze e c'è naturalmente il verbo S con oltre 450 occorrenze ma la sostanza non cambia perché comunque rimane che il con Atus essendi è uno dei concetti centrali di Spinoza della sua visione della natura della visione dell'essere umano e l'affermazione cardine è la seguente etica parte terza proposizione 6 ogni cosa per quanto sta in essa si sforza di perseverare nel suo essere ma lui va avanti questo lo vede prendi una formica prendi una mosca prendi quello che vuoi prendi anche la cosa più piccola il coronavirus non lo possiamo prendere si lo possiamo prendere ma non lo vediamo ma insomma se lo potessimo vedere prendilo anche lui e tenta di schiacciarlo così vedrai che in qualche modo si muove perché esiste un desiderio di perseverare con Atus perseverandi in suo S tutto quello che vive vuole perseverare ma lui dice questa è la fenomenologia allora va avanti e dice ma allora questo cosa vuol dire vuol dire che il desiderio è l'essenza stessa del vivente e più si sale nella scala dei viventi più sale il desiderio e così voi leggete in Etica 3 definizione degli affetti uno queste cinque parole che sono la vostra carta di identità filosofica cupiditas est ipsa ominis essenzia un latino elementare ma per chi non l'avesse lo traduciamo tranquillamente ecco cupiditas qui le diverse edizioni traducono desiderio ma in latino hai desiderium e hai cupiditas e lui non dice desiderium dice cupiditas cupio cupere cupido cupido vi è mai capitato di essere colpiti da cupido immagino di sì è capitato a tutti quindi la cupidigia è ipsa ominis essenzia la stessa essenza dell'essere umano che cosa sono io cupiditas che cosa sei tu cupiditas che cosa sei tu che cosa sei tu che cosa siamo noi qui dentro cupiditas e questa nostra ipsa essenzia questa nostra essenza più vera attenzione bene quello che ci insegna Spinoza non ci viene manifestato dalla mente perché la mente talora mente e dice delle cose che ama poter pronunciare non sempre non sempre sia chiaro ma talora più o meno spesso a seconda dell'educazione che si ha della natura la mente mente e bisogna smentirla è il corpo che ce lo dice è dal corpo che noi prendiamo la lezione è il nostro corpo che nella misura in cui è fisiologicamente sano poi se le patologie ci sono sempre può anche capitare quando si ragiona non si può ragionare a partire dalle eccezioni poi si fa il ragionamento andando a prendere appunto la physis la natura del fenomeno se si vuole cercare l'essenza giusto? questo è il ragionamento retto poi ci sono le eccezioni e si trattano come tali ma da sempre la mens filosofica da sempre a partire da Socrate perlomeno che chiedeva che cos'è questa cosa Socrate è stato colui che ha inventato la definizione dal punto di vista logico qual è che cos'è questa cosa cosa dici con questa cosa qual è l'essenza ebbene l'essenza di ciascuno di noi è cupiditas e questo ce lo dice il corpo il che porterebbe portare a collocare Spinoza come qualcuno fa a mio avviso in modo del tutto improprio non farò i nomi di chi lo fa di chi fa queste operazioni perché non sono qui presenti se fossero qui presenti insomma voi potete trovare storie contro storie della filosofia e così via che pongono Spinoza all'interno dei libertini lui Spinoza che ebbe una vita castissima non che sia male essere un libertino io non ho che avere tanti amori non è questione di dare a ciascuno il suo semplice Spinoza tutte le biografie sono concorde tutte le testimonianze innamorò da giovane da una gli andò male perché lei disse di sì al suo amico ed allora a quanto pare visse della sua austerità vi ho già detto e dov'è questo libertinismo c'era la libertà Spinoza la volontà e scrisse il trattato teologico politico a favore della libertà della libertà di parola ma tutt'altra cosa la libertà dal libertinismo però noi ci troviamo al cospetto però di questa cosa che lui dice che cosa sei? Sei cupidigia specchio specchio delle mie brame ecco un po' tutti noi ci guardiamo allo specchio noi non siamo la regina cattiva però ci guardiamo quante volte ci guardiamo allo specchio una volta dissi ai miei figli eravamo a tavola mi guardarono male non avviene sempre così a casa mia anzi raramente però ogni tanto prendo e dico sapete Confucio che cosa si racconta ragazzi e guardano un po' stanchi comunque dico si racconta questa cosa che un discepolo gli chiese maestro se tu ricevessi il potere assoluto per prima cosa cosa faresti all'interno dello Stato qual è la prima azione e io dissi ai miei ragazzi voi cosa fareste naturalmente silenzio e io dissi beh io abolirei gli specchi era per fare tutta una tirata sul fatto che si sta troppo nel bagno a guardarsi gli specchi abolire gli specchi ma quindi noi esiste questa dimensione della cupidigia ci guardiamo torniamo torniamo su noi stessi ma la forza di Spinoza è che sapendo che noi siamo cupidigia giunge a dire giunge a parlare nell'ultima parte dell'etica altro che libertinismo dell'amore verso Dio e dell'amore intellettuale verso Dio naturalmente il Dio di Spinoza non ha nulla a che fare con il Dio del giudaismo con il Dio del cristianesimo è un'altra maniera di intendere Dio ma eccoci al punto tu non devi tu non devi spegnere la tua cupiditas ma la devi indirizzare verso qualcosa che è più grande di te e allora sì si legge nell'etica parte quinta versetto sedici questo amore verso Dio deve occupare la mente in sommo grado quinto sedici deve occupare la mente in sommo grado erga deum amor amor dei intellettualis noi siamo all'interno di una società che è amor mei materialis amore di me stesso di me stesso come corpo niente lui non c'è nessun spiritualismo nel senso negativo del termine capite non c'è nessuna denigrazione del corpo nessuna però c'è il tentativo di essere fedeli fino in fondo a ciò che realmente siamo e non certamente noi siamo corpo ma siamo anche io voglio dire siamo ancora di più ciò che veramente ci rende unici nell'universo vedi quello che dicevo prima è la nostra mente la nostra coscienza la nostra capacità di elaborare informazioni e allora si tratta di essere fedeli alla propria essenza capendo che il lupo universale che c'è dentro di noi deve lavorare in funzione di qualcosa di più grande di lui non l'amor mei ma l'amor dei l'amore di Dio non vi piace il termine Dio nessun problema dite veritas non vi piace veritas nessun problema dite pulcritudo non vi piace pulcritudo dite giustizia non vi piace giustizia dite bonum non vi piace neanche bonum non so a questo punto dite esse l'essere l'amore per l'essere non vi piace esse dite vita la vita rispetto per la vita di cui parlava di cui parlava Albert Schweitzer Erfurt vor dem Leben che noi traduciamo rispetto per la vita ma Erfurt è venerazione è quella cosa che ti fa fare rispetto fai così quando noi rispettiamo stiamo ritti e rispettiamo così Achtung Erfurt è qualcosa che ti porta mi è capitato di essere al cospetto di una persona che stimate così profondamente e che cos'è la stima la stima la devozione dell'intelligenza la stima la devozione è la vostra intelligenza che si che si china per quello voi potete non potete dare la stima così la stima uno può essere l'uomo più ricco del mondo più potente del mondo ma la stima è sempre qualcosa che gli altri danno gratuitamente la devozione dell'intelligenza che si dà senti e senti il fremito anche il fremito dentro di te dici questa è una persona stimabile la stima ecco io vi auguro e ho concluso di trovare qualcosa verso cui nutrire la vostra stima questo è Dio nel senso il vostro Dio nel senso performativo del termine Dio Dio è un titolo non è un ente magari è un ente anche una persona che sa magari sì magari no ma se tutti i popoli di tutti i tempi hanno parlato di Dio e di divino è per nominare il fatto che la nostra mente può provare riverenza stima verso qualcosa di più grande di sé è il lupo il lupo universale che è dentro di noi a sua volta si inchina non viene ucciso no non si tratta di uccidere niente si tratta di di dare direzione orientamento questo era il senso se voi vivete all'insegna di ciò che molto spesso la nostra società dei consumi vi propina ci propina anch'io sono dentro ci mancherebbe e noi abbiamo un circolo chiuso io uguale io l'amor mei io voglio io io voglio io ed è questo continuo a tornare su se stessi se voi trovate qualcosa di più importante del vostro ego a cui il vostro ego si dedica una passione fondamentale che riempie la vostra vita voi trovate il vostro Dio e allora non siete più dentro questo cerchio dell'eterno ritorno dell'uguale dove questo uguale questo ego che è sempre uguale se stesso è alla fine proprio noioso ma spaccate il cerchio rompete la prigionia rompete i ceppi della caverna platonica siete orientati verso qualcosa e la figura non è più il cerchio che torna ma è la spirale che sale c'è sempre forza c'è sempre desiderio ma non torna più su di sé verso qualcosa di più grande si sale verso le stelle come la parola desiderio come tutti voi sapete allude de sidus sideris e concludo con un verso di Dante che amo molto a proposito di stelle quando Dante fa dire a suo maestro amatissimo Brunetto Latini che colloca nell'inferno nel girone dei sodomiti è una delle tante cose per cui la divina commedia sì per alcune cose è superata chi di noi collocherebbe oggi Brunetto Latini all'inferno ma chi di noi oggi collocherebbe Pier delle Vigne all'inferno nel girone dei suicidi e Paolo e Francesca non ne parliamo cioè sono tante cose e tanti invece che sono posti in paradiso un po' più giù magari non dico proprio all'inferno ma un po' più giù Costantino uccise il figlio per poter tenere il potere Giustiniano in paradiso insomma va bene ma Dante fa dire a Brunetto Latini queste parole bellissime che sempre sono da tenere presente perché esprimono esattamente la dialettica del desiderio se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto si tratta di seguire qualcosa che è tuo se voi cogliete questa dialettica voi capite che dovete essere fedeli a voi stessi ma che la fedeltà a voi stessi non è il ripiegamento egoistico narcisistico l'ego quella cosa che abbiamo detto ma è seguire noi non dobbiamo seguire la stella di nessun altro la nostra dobbiamo trovarla dobbiamo seguire neanche la stella di Betlemme dobbiamo seguire no la nostra è tutto il senso della spiritualità e capire qual è la nostra stella però la dobbiamo seguire in obbedienza matura e vera se segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti